L'altro giorno parlavo di Ciaveniesta e vado a vedere Barelli. Che cosa vado a vedere di Barelli? Ragazzi, a me mi piace molto più il giocatore come Locatelli, che sa giocare a calcio, sa la palla dove deve metterla, invece lui va sull'esterno, va a doppiare, va a correre a destra, si fa casino, si fa morire. Non mi piace, punto. Barelli a Ciavenna in una squadra? Sì. Mi piace come giocatore? No. Mi salta? No. Mi piace chi? Niesta, Ciavi, Modri.